Allora, c'è una coppia di sposina che non si sposava, prima mi si sposava però il marito si sentiva male e gli ho chiuso ad un medico, praticamente un medico ci ha detto che aveva problemi di cuore e dice che ci ha detto mi raccomando facete scorsi insomma mi raccomando lontano da quella cosa lì e gli ho chiuso a sposare però mi raccomando facete niente se no e va bene dottor facciamo così insomma si sposano a prima notte di nozze niente perché giustamente non poteva fare niente la moglie era giustamente una bella e la mia figlia è già bella, bella signora, bella, 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 amore, io stiamo col cuore e gli diceva, va si la moglie, va che ora arrivo che faccio quattro punte e arrivo la prima sera, la seconda sera, la terza sera, la quarta sera insomma io ero sempre da così che stai cercando facciando niente, io si spagnolo allora la moglie giustamente si è stufata in questa situazione e gli ho dato la socia, e gli ho detto, oi ma vedi che ha detto, il figlio è orso niente, ha detto, non mi ho sposato ha detto, è ancora niente, un po' consumare ha detto, non lo devo mai fare allora mamma sa, la pietarufa qui lì parte e dice, ma che è questa storia? e gli ho detto, c'è cacca, è consumata ancora, la moglie è stata fatta l'asse ha detto, ma veramente, ha detto, ho un problema nel cuore ha detto, è rummiglia, mi ha detto, non mi ha aperto ha detto, va bene, ti dice, vado a capare, dice, una sera, la contenta, eccetera, fa la contenta ha detto, va bene, ma non ci provo insomma, una sera, poi, arriva a dare a casa, e la moglie torna e, adesso, vedo che stiamo a collocare e, adesso, faccio, si, adesso arrivo, adesso arrivo, insomma si, cominciano a dare un rietto, e e cominciano a fare l'amore a un certo punto, io comincio a fare, a se lamentare, a se lavorare, a sta via male la moglie è la fama, sta venendo, no, stai murendo no, 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 no Grazie a tutti.